... Incidente nella serata di giovedì 30 novembre a Ozzegna, nei pressi del distributore di Scara sulla provinciale 222. A essere coinvolte sono state Benz autovetture, una Fiat Punto, un Land Rover Sport, una Suzuki S-Cross, una Mercedes classe A, una F500 Abarth 595 e una Ford Ecosport. Sul posto sono immediatamente intervenute tre ambulanze della Croce Rossa, di cui due di Castellamonte, che hanno prestato soccorso agli occupanti delle auto. Tutti illesi, mentre solo un conducente si è trasportato all'ospedale di Ivrea per una ferita alla testa. Presente anche i vigili del fuoco di Livarolo Canavese e di Ivrea, oltre ai carabinieri della compagnia di Ivrea, al cui vaglio è la dinamica dell'incidente. Presente anche i nostri spettatori di Livarolo Canavese e di Livarolo Canavese e di Livarolo Canavese e di Livarolo Canavese.